E' con una conferenza stampa che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, hanno voluto comunicare tutta la loro soddisfazione per aver raggiunto un importantissimo traguardo per il quale si erano entrambi impegnati in campagna elettorale, la chiusura di Malagrotta dopo 30 anni. E' una giornata storica, dopo un terzo di secolo, più di 30 anni, chiude la discarica più grande d'Europa, chiude per sempre Malagrotta, una chiusura tombale, una chiusura dalla quale nascerà un parco. Adesso Malagrotta verrà completata con argilla, terra e finalmente alberi. Credo che questo sia un giorno da festeggiare, era quello che avevamo promesso ai cittadini di Roma e lo abbiamo realizzato in pochi mesi. In questo momento mi sento anche di poter dire che grazie al lavoro dell'assessore Estella Marino e alla possibilità di trasferire fuori dalla città e fuori dalla regione il materiale che esce dal trattamento meccanico-biologico, noi non utilizziamo la discarica esistente di Falcognana e la consideriamo un sito residuale solo come valvola di emergenza. Non c'è nessun camion che oggi va verso Falcognana. La storia di Roma moderna è anche scadenzata da alcune date importanti, quando aprì la metropolitana, quando si aprì l'auditorium. Non c'è dubbio che il primo ottobre 2013 passerà la storia come una giornata storica, perché dopo oltre 30 anni chiude la più grande discarica di rifiuti d'Europa e chiude grazie a una grande collaborazione istituzionale che non solo vuole chiudere Malagrotta, ma vuole avviare un nuovo ciclo di rifiuti a Roma, fondato sulla differenziata, sul recupero, sul riciclo, e cioè su un'idea moderna di ciclo di rifiuti. La chiusura è un fatto storico, ma va considerata un giro di boa, ora per investire. Noi saremo vicino a Roma, come lo siamo stati in questi giorni, per aiutarla. Abbiamo già stanziato 70 milioni di euro per incrementare la raccolta differenziata e con questa collaborazione puntare all'obiettivo, ripeto, di anche a Roma non avere più il sillogismo, rifiuto, uguale problema. Il rifiuto deve diventare una risorsa e solo se ci sarà una grande innovazione che vogliamo portare avanti, questo è concretamente possibile. So che le istituzioni erano poco credibili perché non avevano mai centrato questo obiettivo, oggi ce l'abbiamo fatta e sappiamo che è il primo gradino importante per dare credibilità alle nostre politiche che vanno avanti, nel segno della sostenibilità, ripeto, e della rivoluzione del ciclo dei rifiuti. Nel corso della conferenza stampa hanno voluto ribadire come Falcognana sia un sito residuo e comunque una discarica già esistente. Chiarimenti Zingaretti li ha poi fatti su Cupinoro la discarica di Bracciano dove il commissario Sottile ha acquistato uno slot di 20.000 tonnellate. Falcognana resta un'incognita, però Bracciano ormai è una certezza. Falcognana in realtà sin dal primo momento, poi non ci credeva qualcuno, abbiamo sempre parlato di una discarica di servizio, cioè di servizio all'operazione di chiusura di Malagrotta e tale rimane, cioè verrà utilizzata nel caso di emergenze o di situazioni, ma non è una grande novità. Noi questo l'avevamo sempre detto, poi c'era chi non ci credeva che ha scritto Malagrotta falcognana, ma erano tutte cose prive di fondamento. La vicenda di Bracciano è figlia di una richiesta della Bracciano Ambiente che ha fatto due bandi che per affrontare una situazione di crisi occupazionale e di bilancio, probabilmente legata al fatto che grazie alla differenziata è diminuito il conferimento, ha bisogno di incassare per un totale di 20.000 tonnellate, quindi per un periodo brevissimo dei rifiuti. Sulla base di una disponibilità e un bando della Bracciano Ambiente il prefetto Sottile ha presnotato questo slot di 20.000 tonnellate che è davvero residuale. Io ho detto in conferenza stampa Roma produce 1.500 tonnellate giorno di rifiuto trattato e lo slot comprato è 20.000, quindi parliamo di niente da questo punto di vista. Quindi io faccio un appello ad abbassare le polemiche e non costruire sillogismi che non esistono. Ripeto, il prefetto comprando questo slot ha risposto a una richiesta di una società peraltro al 100% pubblica, ci vengo a dirlo, che si trova ad affrontare una crisi economica ed emergenziale e ha fatto quello che fa una discarica, cioè vende degli slot e degli spazi che ha. Quindi non c'è nulla di nascosto, nulla di segreto, è un bando pubblico pubblicato sui giornali di tutta Italia, credo, perché io non l'avevo visto. Presente alla conferenza stampa anche Michele Civite e Destella Marino. Proprio la Marino ha precisato come i costi dei conferimenti a Malagrotta erano circa 67 o 68 euro a tonnellata, mentre con i bandi aggiudicati che prevedono il trasferimento dei rifiuti in Piemonte e in Romagna, il costo è di 115 euro a tonnellata. È evidente che c'è un aumento di costo, ha dichiarato, ma è pur vero che ai costi di questi impianti bisognerebbe aggiungere anche i costi ambientali, perché se è vero che in passato c'è stato un risparmio, adesso bisognerà vedere quali saranno i costi che pagheremo in termini ambientali. A chi chiedeva se all'aumento del costo del conferimento corrisponderà un aumento delle tasse per i cittadini, ha così replicato il Sindaco Marino. Io non penso che ci saranno aumenti delle tasse, anche perché stiamo in questi giorni lavorando con il governo da tanti punti di vista. Uno di questi è la legge di Roma Capitale, che non è mai stata finanziata e che riconosce a Roma il ruolo di capitale. Non ci sono altre città italiane che hanno centinaia di ambasciate, che hanno centinaia di manifestazioni durante l'anno, che hanno necessità straordinarie come la capitale e su questo io penso di poter garantire che non ci saranno aumenti delle tasse.